Per loro minorenni era come un gioco andare in giro per Milano con pistole e miscele esplosive. Un gioco del quale vantarsi poi su Telegram alla chat social di origine russa sulla quale si può trovare davvero di tutto. La Polizia Postale, la Digos e Unità Cinofile Specializzate della Polizia di Stato hanno eseguito ben otto perquisizioni a Milano e in altre città d'Italia, fermando le attività di molti minorenni. Gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano hanno individuato una decina di minorenni che a diverso titolo si vantavano delle loro esperienze. I miei genitori sono contrari alle armi, allora me le fabbrico io oppure me la prendo da qualche parte, scriveva uno. E un altro rispondeva, ci ho sparato con una Glock vera o ancora, te lo dico perché le modifico da quando avevo 14 anni e così via. Ragazzi che inoltre affermavano di andare tranquillamente in giro per la città armati di coltelli e a volte persino con pistole ed esplosivo. Alcuni di loro oltretutto hanno scritto di aver portato con loro anche in luoghi particolarmente sensibili le armi. Io avevo una Glock, però poi ci sono andato a scuola perché l'avevo visto in un film americano, ha scritto uno. Un altro invece ha ribadito, io sono andato con un multitool con coltello, ho rischiato molto di andare al minorile. E poi ancora foto e video dove mostravano la loro abilità con armi da taglio ma anche da sparo. Tutti gli oggetti messi in bella mostra per vantarsi di fronte agli altri utenti del gruppo social.